Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il Bolton Allora quest'oggi tre partite particolarmente importanti perché diciamo nella scorsa puntata avendo perso due gare su tre contro lo Sheffield e contro il Norwich quest'oggi è molto importante rialzare subito la testa e quindi affronteremo innanzitutto il Bournemouth che all'andata ci ha battuti per 2-1 poi andremo ad affrontare il Millwall il primo di aprile e poi abbiamo la partita anche contro il Birmingham ma prima di iniziare a giocare come al solito mi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità e detto ciò ragazzi possiamo scendere subito in campo però prima vorrei fare diciamo qualche conto perché allora innanzitutto diciamo tecnicamente e praticamente siamo già certi appunto della promozione in Premier League perché visto che il Nottingham Forest è terzo in classifica è alla quarantesima giornata quindi vuol dire che restano solamente sei giornate all'oro quindi può fare massimo 18 punti anche se le vince tutte e sei andrebbe massimo a 89 punti quindi vuol dire che a meno la promozione in Premier League siamo certi di ottenerla appunto perché valgono solamente i primi due posti per la promozione diretta invece per quanto riguarda la vittoria del campionato è ancora presto per festeggiare perché innanzitutto sia noi che Norwich abbiamo una gara in meno quindi siamo alla 39esima giornata quindi ancora sette giornate da disputare sia per noi che per loro quindi vuol dire che se Norwich le vincesse tutte andrebbe a 106 punti perché appunto 21 punti in palio 106 punti quindi questo vuol dire che avendo attualmente un vantaggio di solamente tra virgolette 9 punti vuol dire che anche noi minimo diciamo bisognerebbe arrivare a 106 punti questo vuol dire dover vincere almeno 4 partite su 7 quindi raga noi appunto puntiamo a vincere almeno 4 partite ma soprattutto speriamo che in queste sette giornate Norwich faccia qualche passo falso quindi fatto questo preambolo abbastanza importante e lungo andiamo a vedere la formazione che andrà appunto ad affrontare il Bournemouth al Vitality Stadium siamo appunto con dei cambi visto che fra solamente due giorni affronteremo anche Millwall quindi appunto ho spezzato un po' la squadra quindi Alexander in porta poi Bachelet in R&B Collins e Fosso Menzani in difesa centrocampo con Robertson Oakley Buff e Michael Hollis in attacco abbiamo Johnson, Antist e Dembélé sicuramente una squadra che può mettere molto in difficoltà questo Bournemouth speriamo di riuscire a vendicare la sconfitta dell'andata in casa occhio subito Antist qui bellissimo il pallone per Johnson la parata miracolosa del portiere grandissima partenza da parte del nostro Bournemouth che alla prima azione ha rischiato già di metterla dentro ma qui c'è stato appunto un grande intervento da parte del portiere avversario ma adesso occhio subito alla risposta dei nostri avversari si è accesa subito la partita vediamo un po' c'è Anthony a R&B che gli gira intorno ma sbaglia occhio a Billing palla per Cook il sinistro bravo a R&B a recuperare ancora Collins a respingere col piede la palla resta lì alla fine arriva il gol di Anthony incredibile colpo di testa di una potenza inaudita Fosso Menzani che diciamo ha aspettato che il pallone scendesse giù ha aspettato troppo infatti Anthony qui è riuscito a battere Alexander sul primo palo che effettivamente un po' più reattivo poteva essere ma proviamo subito a rispondere Oclibuf vedi Antist riesce a subire fallo qui brutto fallo commesso dal numero 5 che dovrebbe essere bilingo o qualcosa del genere vediamo se l'arbitro prenderà qualche provvedimento mi sa che almeno il cartellino giallo no niente visto che era un fallo abbastanza duro pensavo che almeno il cartellino giallo mi ha schippato da solo il replay comunque vabbè comunque raga poco importo pensiamo a questa punizione che potrebbe essere veramente pericolosa servirebbe un sinistro vorrei far provare a calciare Michael Hollis anche se effettivamente un destro potrebbe essere meglio però Oclibuf non mi ispira proverai con Michael Hollis vediamo un po' partirà col sinistro proverà a metterla all'incrocio Michael Hollis ha preso proprio la traversa perché se non sbaglio l'abitro ha detto che è rimessa dal fondo riguardiamo qui calcio di punizione ottimo sinistro vediamo un attimo traversa piena e niente oggi già mi sembra una partita veramente maledetta subito una grandissima occasione per Johnson e adesso questo legno clamoroso sulla punizione ma occhio Johnson qui vedi lo scatto dentro di Michael Hollis pallone perfetto di Johnson Hollis polla in realtà questa volta riusciamo finalmente a segnare al terzo tentativo Michael Hollis non sbaglia 1-1 abbiamo rimesso la partita a posto la nostra squadra è scesa bella cattiva in campo quindi sicuramente non meritava di stare sotto il gol nel Bournemouth diciamo è solo un piccolo incidente di percorso speriamo che questo gol di Michael Hollis possa rimettere la nostra squadra appunto sul binario giusto per portarci alla vittoria che quest'oggi è fondamentale comunque il gol di Michael Hollis che in campionato non segnava da un po' se non sbaglio comunque questo qui è il decimo gol tondo tondo occhio possiamo ancora andare Robertson buono il tocco per Michael Hollis se vedi l'inserimento di Johnson molto bene vedi dentro al testo gol del Bolton l'abbiamo ribaltata 2-1 bene così era diciamo la partita che ci serviva era la reazione che serviva dopo quel gol di Anthony fortunatamente il nostro Bolton non si è disunito e ha continuato ad attaccare qui bravissimo ancora Johnson che serve un altro assist quest'oggi veramente partita spettacolare da parte del nostro Johnson che appunto non ne sbaglia uno e poi qui a portavoto Antist non poteva sbagliare molto bene 2-1 siamo passati in vantaggio occhio occhio qui inserimento di Sarridge qui non me l'aspettavo che il Rambi non riuscisse a chiudere il suo avversario ma infatti non è successo purtroppo ed è arrivato il gol del Bournemouth che pareggia e adesso siamo sul due pari comunque voglio rivedere questo gol qui appunto il Rambi ha provato a chiudere pensavo anche che ci riuscisse sul 32 però purtroppo non ce l'ha fatta ed è arrivato il gol di Sarridge due pari e niente raga a fine primo tempo 2-2 all'intervallo questo gol proprio nel finale non ci voleva peccato perché stavamo giocando particolarmente bene purtroppo contro il Bournemouth non è mai semplice anzi abbiamo sempre tante difficoltà effettivamente il Bournemouth è una squadra abbastanza forte che diciamo non si trova altissima in classifica però è comunque una squadra che spesso ha giocato in Premier quindi ci sta avere difficoltà contro di loro comunque attualmente 0-0 fra Rotterdam e Norwich occhio ma ecco l'Ollis palla per Johnson possiamo andare vediamo un po' Johnson è ancora in aria vedi dentro ancora Antist di testa no Antist no tante cose sbagliate in queste azioni innanzitutto perché Johnson mi ha alzato il pallone io ho fatto diciamo il classico cross appunto rasoterra non capisco perché me l'ha alzata e poi soprattutto cosa ancora più brutta questo colpo di testa di Antist però effettivamente non era semplicissimo poi occhio qui ancora Born ma fin aria c'è Cook occhio che è passato Alexander qui riesce a respingere poi Michael Ollis in rovesciata prova a chiudere Robertson qui rischia alla fine Bacianen può controllare occhio qui palla dentro Alexander se l'ha fermato la palla resta lì occhio madonna raga ma perché dobbiamo rischiare così tanto se non sbaglio si è fatto anche male al re in bici ho fatto caso solamente adesso comunque qui occhio a contropiede Antist palla lunga per Johnson che può andare Johnson è sul fondo questa volta l'alza diciamo effettivamente ho voluto io che alzarsi il pallone comunque sarà a calcio d'angolo Michael Ollis a cercare Fosuma in sala presa ma blocca il portiere occhio qui ancora a Bournemouth Collinson riesce a chiudere e arriva il gol del 3-2 del Bournemouth incredibile contro rimonta per i nostri avversari raga subito 4-2-4 dentro l'is scusate comunque fuori l'is dentro Ricky Jones che fa la punta vicino ad Antist poi in campo Bapaga al posto di Dembélé e anche Tristan Naidem che entra al posto di Robertson non possiamo assolutamente perdere questa partita perché si rischia appunto di avere in Norwich a meno 6 e non deve assolutamente succedere qui passaggio di Jones che non capisco perché me l'ha fatto così oggi non riesco a controllare bene la mia squadra occhio Bapaga tocco per Ugly Buff vediamo un po' vedi l'inserimento dentro di Antist il tiro di Antist palla in rete che mazzata di Antist che gol che ha fatto il nostro centro avanti 3-3 mamma mia qui ha pescato veramente un gol spazzesco dal cilindro sinceramente non me lo aspettavo manco che riuscissi a tirare visto che sembrava abbastanza chiuso comunque qui invece è riuscito a tirare col destro tiro violentissimo molto bene 3-3 dai ragazzi andiamo a vincere questa partita occhio raga proviamo un'ultima azione ma l'arbitro fischia subito 3-3 termina qua la partita effettivamente un minuto dopo ci sta comunque 3-3 peccato bisognava vincere questa partita un pareggio comunque ci blocca perché adesso il Norwich rischia di portarsi a meno 7 vediamo un po' cosa hanno fatto ha vinto adesso sono a meno 7 e niente raga questa qui è la nuova classifica adesso siamo tutti a 40 giornate disputate appunto più 7 rispetto a Norwich vantaggio che giornata dopo giornata si accorcia sempre di più e stiamo rischiando tanto comunque raga adesso tocca Millwall decimo in classifica sicuramente non sarà una partita semplicissima soprattutto visto il nostro periodo non esattamente splendendo ultimamente quindi sicuramente non sarà una partita semplicissima comunque è importante vincere anche quest'oggi o comunque provarci anche quest'oggi stiamo rischiando veramente di buttare tutto all'aria dopo un campionato veramente bellissimo veramente di un livello altissimo quindi sarebbe un peccato non vincere è vero che siamo già appunto promossi in Premier League però io voglio vincere questa Championship perché secondo me è importante anche vincere il trofeo del campionato appunto comunque quest'oggi scenderemo in campo con Alexander Bacher Cozzagra Vigion Morei centrocampo con Naila Marper e Martin Gill in attacco Lewis Potter Ricky Jones e Papaka occhio che la maggior parte dei giocatori che diciamo sono scesi in campo contro il Bornemuff non sono neanche in panchina perché appunto sono molto stanchi quindi ho molti giovani in panchina quest'oggi occhio subito al Millwall qui che prova a rendersi pericoloso sto rimpallo vinto così non le posso vedere queste cose comunque fortunatamente il sinistro furi occhio a Lewis Potter prova ad accentrarsi Lewis Potter aspetta lo scatto di Ricky Jones ma vedi dentro Martin Gill subito palerete 1-0 l'abbiamo sbloccata molto bene bravissimi il nostro Martin Gill che qui si è inserito veramente alla grande ma molto bravo anche Lewis Potter a servire un assist veramente perfetto ormai Lewis Potter a livello di assist è diventato veramente un fenomeno qui appunto riguardiamo il corridoio perfetto bravo anche a fare il movimento il nostro trequartista spagnolo e poi col destro tiro precisissimo all'angolino basso imparabile per il portiere molto bene siamo subito in vantaggio occhio Lewis Potter prova ad avanzare Lewis Potter vedi l'insedimento dentro di Naidam vai Naidam no palla fuori clamorosa occasione per il nostro centrocampista centrale qui col sinistro la messa clamorosamente fuori solitamente non commette questi errori occhio al Mirwole che prova a rispondere palla per Thompson che avanza vediamo un po' provo di uscire con il savona palla ancora lì occhio qui c'è tanto spazio grandissimo Alexander a parare qui sul suo palo questo tiro molto pericoloso meno male che diciamo non ha tirato benissimo comunque calcio d'angolo la palla rimane lì Broadshow vediamo un po' prova a girarsi Hutchinson la palla rimane lì riusciamo a chiudere occhio possiamo andare Ricky Jones effetti da questa altra parte addirittura Lewis Potter che può andare ha guadagnato spazio Lewis Potter dentro subito fallo occhio Jones Jones no miracolo miracolo del portiere alla fine guadagniamo un calcio d'angolo un'altra clamorosa occasione per raddoppiare dopo Naitama ma occhio qui al corner Bacher viene anticipato ma c'è Bapaka che qui deve fare attenzione a non perdere questo pallone prova un destro Bapaka palla ribattuta Ricky Jones prova a girarsi ancora va col destro Ricky Jones palla alle stelle dai ragazzi dai occhio qui palla dentro occhio che c'è spazio ancora Alexander lì era passato liberissimo il giocatore del Milwool non riusciamo mai a coprire bene una beata volta comunque calcio d'angolo la palla ribattuta fine primo tempo 1-0 all'intervallo per il nostro Bolton diciamo che è un punteggio che ci va particolarmente stretto minimo due gol di vantaggio li meritavamo ed occhio raga che all'intervallo il Norwich è in vantaggio 1-0 contro il Cardiff occhio qui al Milwool errore di Graviglione ancora Alexander che commette o comunque che riesce a fare una parata veramente incredibile quest'oggi Alexander veramente gran partita per lui comunque calcio d'angolo Bennett la mette dentro ancora Alexander grandissimi interventi Luis Potter non riesce ad evitare il calcio d'angolo vediamo un po' ancora Bennett a battere palla dentro ancora Alexander con i pugni ma rimaniamo sempre lì sempre Bennett vediamo un po' c'è Morey che prova a chiuderlo vediamo ancora Bennett palla dentro a cercare Mahoy occhio la palla lì Cozzano riesce a chiudere Alexander blocca addirittura occhio Papaga qui recupera un buon pallone fa partire Martin Gil tocco per Tristan Neidam che può avanzare Neidam non sbagliare stavolta no palla fuori anche stavolta l'avevo vista dentro più di prima qui col sinistro tiro ancora leggermente troppo largo di pochissimi è uscito raga arrivano anche i cambi per noi dentro il giovane Castiello il giovane C.O.C. al posto di Martin Gil poi in campo Clebooth al posto di Neidam e dentro anche David Costa al posto di Lewis Potter occhio Ricky Jones è qui buono il tocco per Clebooth vede l'insedimento di Costa Costa il tiro di Costa palla in rete finalmente 2-0 per il nostro Bolton e che ci è voluto ho dovuto mettere addirittura David Costa per riuscire a mettere a posto questa partita è vero che diciamo siamo stati in vantaggio per tantissimo tempo però appunto non riuscivamo a raddoppiare fortunatamente qui bravo appunto Clebooth con l'assist e poi David Costa col destro non ha sbagliato 2-0 molto bene è perfetto raga arriva anche il fischio finale una sudata veramente questa partita però comunque bella vittoria abbastanza di squadra abbastanza di forza soprattutto negli undici quest'oggi non abbiamo subito neanche gol cosa abbastanza incredibile non so da quanto tempo era che non subivamo gol in campionato e appunto possiamo essere soddisfatti anche se in questo caso c'è da ringraziare molto il nostro portiere Alexander che ha fatto veramente grandi interventi comunque ho visto che anche il Norwich ha vinto 2-0 contro il Cardiff ok raga adesso partita contro il Birmingham l'ex squadra di Bellingham comunque dando appunto sempre uno sguardo alla classifica io penso che sarà molto probabile che sia noi che Norwich arriveremo a 100 punti e quindi c'è il rischio che una delle due squadre a 100 punti non riesca a vincere il campionato sarebbe qualcosa di incredibile comunque speriamo sempre che la scuola che non ci riesca sia appunto in Norwich comunque andiamo a leggere la formazione che è andata ad affrontare il Birmingham siamo completamente con i titolarissimi quindi Alexander Bacher Koza Collins Fosso Mensah Nigam Bocli Buffo Lise Louis Potter Dembélé e Ricky Jones unica punta che è diventato un 80 occhio subito Michael Olise che si inserisce vedi Dembélé palla in rete subito 1-0 l'abbiamo sbloccata anche quest'oggi subito dopo appena 5 minuti qui grandissimo gol di Dembélé che si è inserito veramente molto bene ha chiuso il triangolo con Michael Olise e poi ha fatto un tiro veramente precisissimo non era per nulla semplice riuscire a metterla dentro da quella posizione qui appunto beffato il portiere del Birmingham ripetiamo qui la palla dentro di Michael Olise e poi col destro Dembélé che riesce a farla passare veramente un gol di una precisione impressionante oggi ho qui palla dentro subito Jonathan Leico che la mette dentro qui neanche il tempo di festeggiare che 5 minuti dopo arriva questo gol dell'attaccante del Birmingham se non sbaglio ex Wes Brown dovrebbe essere Jonathan Leico comunque qui si è fatto beffare Alexander che come al solito sul primo palo non è mai precisissimo qui Collins si è staccato male anche se lì teoricamente doveva esserci Cozzan come al solito non capisco mai le marcature dei miei difensori che le fanno sempre a caso non lo so veramente ormai ci ho pezzo qualsiasi speranza per difendere bene oggi ho qui qui ancora al Birmingham grandissimo intervento da parte di Nathan Collins anche molto rischioso ma coraggioso occhio qui ancora al Birmingham che ci prova colpo di tacco facciamo attenzione sempre Jonathan Leico la palla rimane lì e arriva il gol del Birmingham siamo sotto intera che veramente non ci posso credere non capisco che cosa sta succedendo alla mia squadra fino a appunto qualche episodio fa due episodi fa diciamo vincevamo qualsiasi partita ma soprattutto più che vincere era il gioco che era estremamente più convincente ora sembra che non ci riesce più nulla non capisco veramente il perché occhio qui ancora palla dentro raga ma dov'è la difesa 3 a 1 Birmingham clamoroso e le avevamo passate anche in vantaggio raga veramente non so darmi spiegazioni eppure io gioco sempre allo stesso modo comunque ci provo non capisco veramente che è successo evidentemente FIFA ha scelto di non farci vincere il campionato perché purtroppo spesso capita che appunto diciamo viene proprio imposto da FIFA comunque il gioco sceglie che tu non possa vincere comunque qui occhio subito a Tristan Naidam traversa riga vabbè raga che vi devo dire niente raga terminano anche il primo tempo 3 a 1 all'intervallo veramente non so darmi spiegazioni proverò a mettere subito il 4-2-4 che vi devo dire raga appunto semplicemente 4-2-4 fuori Olys e dentro Antist Occhio possiamo andare Oclibuff vedi dentro Antist che può andare forza Antist vai Antist col sinistro palla in rete valla subito a prendere immediatamente 3 a 2 non esultiamo neanche troppo andiamo subito avanti dai ragazzi che io voglio vincere questa partita manco pareggiarla ma occhio però subito al Birmingham facciamo attenzione qui se subiamo il gol del 4-2 potrebbe essere la botta definitiva Occhio qui grandissima chiusura da parte di Nathan Collins Occhio che possiamo ripartire Antist vedi dentro Ricky Jones bruttissimo il passaggio Antist dai cacchio Occhio qui ancora un pallone rubato Louis Potter tocco per Tristan Naidam prova ad allargare qui bellissima con l'esterno Dembélé vedi dentro Antist bruttissimo il pallone perché sbagliano sti passaggi dai ragazzi su mai fatti questi errori i modi vogliono iniziare proprio oggi a farli quando è fondamentale non farli qui ancora una chiusura da parte di Cozzà e possiamo ancora andare Tristan Naidam vediamo un po' da quest'altra parte a cercare Louis Potter che può correre ma anche i nostri avversari qui sono molto rapidi Louis Potter vedi dentro Naidam dai ragazzi su occhio a Louis Potter pallina avanti a cercare Ricky Jones dentro per Antist vedi l'inserimento di Oakley buff palle in rete 3 a 3 Oakley buff dai ragazzi 3 a 3 bene dai che almeno non perdela sarebbe veramente molto importante però ragazzi stiamo continuando a lasciare punti per strada comunque proviamo a fare anche gli altri due cambi allora raga semplicemente resto col 4-2-4 però dentro Harper per Naidam e Johnson a posto di Louis Potter per mettere un po' di forze fresche e occhio Ricky Jones buono il pallone per Antist vediamo un po' occhio che c'è un po' di spazio Antist qui riesce a passare la subisce un bruttissimo fallo da parte del numero 4 che neanche l'ammunizione raga neanche l'ammunizione madonna come è fatto male questo gioco occhio a Oakley buff qui buono il tocco per Antist vedi dentro Ricky Jones che si è fermato Ricky Jones si è fermato Ricky Jones non capisco che cosa c'ha oggi il nostro Ricky Jones ma per oggi intento proprio tutta la puntata comunque occhio ad Antist ancora per Ricky Jones che prova a far partire Johnson è passato occhio a Johnson miracolo che è portiere proprio all'ultimo tiro all'ultima occasione incredibile che peccato comunque calcio d'angolo facciamo battere uno che sa battere proviamo a far battere a Dembélé vediamo un po' cerchiamo ovviamente Fosu Menza palla dentro anticipato e alla fine non riusciamo a riconquistare il pallone altri due punti buttati ma che occasione di alla fine con Johnson e niente raga quest'oggi veramente un disastro questa qui decisamente meritavamo di vincere nel secondo tempo il Birmingham non ha fatto nulla quindi sicuramente non meritavamo di non vincere questa partita adesso è importante dare un occhio a Norwich veramente raga non capisco che cacchio è successo alla mia squadra e Norwich ancora deve giocare quindi direi di andare avanti aspettare che gioca occhio che hanno perso occhio che Norwich dovrebbe aver perso perché sono fermi a 91 punti quindi questo vuol dire che ha perso in casa contro il Nottingham Forest quindi ci sta perdere contro il Nottingham Forest adesso abbiamo guadagnato un punto e siamo a più 8 a 4 giornate dalla fine quindi raga questo vuol dire che teoricamente nella prossima puntata ci basterebbe semplicemente fare 4 punti perché appunto una vittoria e un pareggio dovrebbero essere sufficienti per appunto matematicamente essere campioni della championship perché appunto anche se diciamo il Norwich arrivasse a 103 punti anche noi a 103 eventualmente penso che con la differenza reti siamo messi alla grande quindi non dovrebbero esserci problemi infatti raga abbiamo 67 di differenza reti e paradossali dato dei gol fatti 141 ma anche quello dei gol subiti 74 se non sbaglio raga siamo sia il migliore attacco ma allo stesso tempo siamo quasi la peggior difesa perché il Fleetwood ha subito 81 gol è un dato veramente allucinante cioè è un paradosso veramente assurdo quindi raga questo vuol dire che nella prossima puntata potrebbe essere la puntata decisiva per questo campionato ma raga nel mezzo abbiamo anche la difficilissima semifinale di FA Cup contro i Chelsea si è visto il nostro stato di forma sicuramente non al top la vedo abbastanza nera comunque noi pensiamo principalmente come al solito al campionato proprio per vincere FA Cup e Carabao Cup eccetera eccetera appunto inizieremo a pensarci dall'anno prossimo quindi raga io mi fermo qua vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto ad iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ciao a tutti